Radio Mondo, 99.9 Alimentiamoci in salute con la dottoressa Raffaella Silvi Torniamo in onda con Alimentiamoci in salute in diretta dagli studi di Via Garibaldi, Radio Mondo e Rieti in vetrina ritroviamo in studio la dottoressa Raffaella Silvi, bentornata Salve a tutti, grazie Oggi parliamo dell'intolleranza al lattosio che è una delle intolleranze che colpisce tantissime persone in modo più o meno grave Ci può spiegare di cosa si tratta? Sì, allora intanto io direi che il termine intolleranza al lattosio non è proprio corretto e sostituirei questo termine che sicuramente è diventato di uso comune con qualche cosa di un pochino più tecnico cioè relativo a un deficit enzimatico perché poi in realtà di questo parliamo cioè di una problematica legata all'enzima della lattasi che è appunto l'enzima che scinde il lattosio che è un disaccaride cioè uno zucchero formato da due unità nelle sue componenti e quindi in glucosio e galattosio quindi quella che noi nominiamo in tolleranza al lattosio in realtà è un deficit enzimatico Per mappare la problematica la troviamo in lattosio chiaramente nel latte, anche in tanti formaggi, non in tutti perché lì subentra pure la stagionatura Sì, allora sicuramente la concentrazione di lattosio è maggiore nei formaggi freschi Quindi gli spalmabili ad esempio Esatto, sì, nella mozzarella per esempio mentre si riduce nei formaggi stagionati o ad esempio anche nello yogurt perché lì avviene una parziale di gestione dello zucchero nel lume intestinale da parte dei batteri che fondamentalmente fermentano per l'appunto lo yogurt e quindi diciamo sono molto più tollerati dalle persone che hanno queste problematiche ovviamente Quali sono i sintomi? Allora i sintomi sono variabili certamente gonfiore addominale ci possono essere dei dolori anche associati certamente diarrea e l'intensità del fastidio non è per tutti la stessa però diciamo è un reggio abbastanza ampio che addirittura in alcuni casi può essere anche invalidante certamente sì In base alla gravità dell'intolleranza i sintomi si possono vedere sia dopo pochi minuti sia il giorno dopo o più o meno No, in genere diciamo compaiono poco dopo l'ingestione insomma non è che trascorrono 24 ore diciamo che questa carenza enzimatica può essere principalmente di tre tipi quindi una carenza enzimatica primaria che è dovuta proprio da un deficit dell'enzima dell'attasi che aumenta con l'aumentare dell'età quindi è come se l'enzima diciamo cominciasse pian piano a funzionare di meno una carenza secondaria quindi un deficit secondario che dipende da malattie infiammatorie come può essere per esempio il morbo di Crohn o casi più gravi come per esempio cure chemioterapiche per dire e poi è stata vista recentemente anche una carenza diciamo di terzo tipo di terzo genere che deriva invece da una problematica di tipo genetica quindi da una patologia recessiva quindi si mettono insieme due geni recessivi che creano diciamo questa problematica sebbene quest'ultimo punto sia ancora in fase di studio quindi diciamo a parte è una cosa molto rara e poi ancora diciamo ci stanno studiando per capire da che cosa derivi poi questo deficit enzimatico come si può fare la diagnosi di questa intolleranza? allora la diagnosi certamente va fatta in prima battuta un'anamnesi abbastanza approfondita quindi se viene in studio qualcuno che ha queste problematiche certamente già facendo un diario alimentare quindi una discrezione della giornata si può facilmente deturre se c'è un consumo, un abuso di latte, latticini e derivati che possano causare l'insorgenza di questi sintomi altrimenti sicuramente una cosa che si può fare che è l'unica poi validata è il breath test per il respiro breath test all'idrogeno diciamo in cui si beve una soluzione e poi si soffre in una provetta questo perché nel caso in cui l'enzima non è stato scusa l'enzima, lo zucchero non è stato digerito bene c'è un rilascio di idrogeno e quindi a seconda della concentrazione di idrogeno che poi viene rilasciata si può fare la diagnosi è vero che l'essere umano comunque sia non è preposto alla digestione del latte? come base? sì, cioè diciamo che noi siamo l'unica specie forse che continua a consumare latte in abbondanza anche dopo la fascia neonatale quindi probabilmente sì deriva anche da questo quali rimedici consiglia per alleggerire un po' questa intolleranza e quindi l'handicap che poi può portare in una vita quotidiana? allora attualmente in commercio naturalmente ci sono una serie di prodotti già del lattosati quindi possiamo comprare yogurt, bevande, latte che sono già privi mozzarella senza lattosio è tutto senza lattosio oramai quindi diciamo questo si può fare tranquillamente altrimenti si può optare per prodotti vegetali quindi le famose bevande vegetali a base di soia, avena, riso eccetera che naturalmente non contengono lattosio altri ancora siccome poi non gradiscono molto il sapore di queste alternative optano per degli integratori a base di lattasi quindi delle semplici compresse che devono essere assunte dopo aver consumato il gruppo dei latticini diciamo e che quindi aiutano a non avere la sintomatologia è ereditaria questa intolleranza o no? allora come dicevamo prima se c'è una componente genetica quindi una problematica autosomica recessiva sì bisognerebbe ereditare dal papà e dalla mamma il genere recessivo però ripeto è una cosa molto rara che stanno studiando attualmente quindi di norma diciamo le intolleranze al lattosio di cui sentiamo parlare si rifanno poi alla carenza primaria quindi al deficit enzimatico quindi all'efficacia dell'enzima che pian piano viene persa con l'aumentare dell'età prima di salutarci questa intolleranza può essere associata ad altri tipi di intolleranze o fa una vita a sé stante? no allora ci sono i casi in cui ovviamente fa una vita a sé stante nel senso che c'è soltanto questa intolleranza altre volte si associa ad altre problematiche per esempio anche in caso di patologie autoimmuni come può essere la celiachia dove possiamo trovare la dottoressa Raffaella Silvi? allora mi potete venire a trovare tranquillamente presso il mio studio via Magliano Sabina 25 e poi curiosate sul mio sito www.nutrizionistasilvi.it con Alimentiamoci in Salute l'appuntamento è per la prossima settimana arrivederci Alimentiamoci in Salute con la dottoressa Raffaella Silvi Grazie a tutti